Grande successo per la scuola estiva organizzata dall'Università di Camerino, dall'Associazione dei Dottorati di Diritto Privato Italiani e dalla Fondazione Scuola di Alta Formazione Giuridica. In programma dal 5 all'8 settembre presso l'Auditorium Benedetto XIII ha infatti richiamato quasi 200 ricercatori provenienti da diversi atenei italiani. Hanno assistito ai lavori anche delegazioni di ricercatori stranieri interessate a conoscere ed approfondire l'influenza del pensiero di Emilio Betti, di cui quest'anno ricorre il cinquantesimo anniversario della scomparsa. Quest'anno ricorrono i 50 anni della scomparsa di Emilio Betti che è sepolto qui nel cimitero di Camerino e che tanto ha dato alla cultura giuridica italiana ed europea. Ci è sembrato davvero doveroso ricordarne la memoria ma soprattutto proporre il suo studio, il suo metodo alle nuove generazioni. Di qui l'idea di unire le forze tra la scuola di specializzazione in diritto civile che è l'unica operante in Italia e l'associazione dei dottorati di diritto privato italiani. Quindi è stata ideata questa scuola estiva della durata di quattro giorni che vede confluire qui circa 200 ricercatori provenienti dai atenei italiani e atenei europei. Si discuterà di come quel pensiero sviluppandosi in un periodo difficile per il nostro paese abbia ancora la capacità di dare delle soluzioni metodologiche, delle impostazioni a quello che è la cultura giuridica attuale. E chi meglio dei giovani può darci indicazioni in tal senso. La scuola estiva è stata anche occasione di aggregazione e confronto amichevole su un differente fronte, quello del calcetto. A sfidarsi in un triangolare le squadre della scuola di specializzazione in diritto civile, quella dei dottorandi italiani di diritto civile e quella dei professori italiani di diritto civile. Madrina d'eccezione del torneo è stata la campionessa Valentina Vezzali, scritta presso la scuola di giurisprudenza che ha anche premiato i vincitori.